ciao a tutti ed eccoci in questa nuova puntata di rockpolitik sono state delle giornate intense per la campagna elettorale soprattutto per le elezioni ecco in molte città abbiamo già un vincitore e c'è alcune città abbiamo ancora da guardare affrontare il secondo turno il ballottaggio ma cosa ci hanno lasciato queste elezioni quelle in cui abbiamo già un vincitore in cui il candidato sindaco è già stato sancito ecco soprattutto in canavese abbiamo poi abbiamo fatto un grosso passo in avanti un grosso balzo in avanti come abbiamo potuto vedere in alcune cittadine per la prima volta nella loro storia abbiamo un sindaco donna e questo fa piacere cioè c'è stato un cambiamento quello di cui sempre abbiamo cercato di parlare anche la nostra rubrica il fatto di riuscire a fare questo cambio di mentalità ecco ovviamente non siamo sicuramente arrivati al risultato finale ma è sicuramente un grosso passo in avanti soprattutto in cittadine come feletto e come cornier un'altra cosa che possiamo notare è che in canavese abbiamo bisogno di un cambiamento e questo cambiamento sta sta arrivando e per le elezioni del 2024 ci sono sicuramente delle ottime notizie anche in città come rivarolo canavese in cui è da anni in cui si aspetta un candidato sindaco donna che vinta ecco quello che è mancato secondo me un po un po in tutte le nostre città e che manca comunque un movimento giovanile manca mancano delle liste civiche fatte da giovani perché come abbiamo potuto anche notare sull'affluenza c'è stata veramente una carenza incredibile soprattutto dal mondo giovanile ma non solo e questo diciamo possiamo ricondurlo anche un po l'effetto del draghismo perché molti di noi da quando c'è il messia il premier mario draghi non si preoccupano più di politica perché l'impressione che ci danno che ci dà il governo è quella di non appassionarci più perché tanto ormai le cose vengono decise dall'alto c'è indifferenza totale e soprattutto non c'è un'opposizione che riesce che riesca a capire accarpire le emozioni del popolo soprattutto delle periferie la parte abbandonata diciamo tra virgolette della nostra popolazione quella che soffre in silenzio che non ha voce infatti molti cittadini molti cittadini delle periferie non si sono presentati alle urne proprio per questo motivo non c'è un partito che riesce a accogliere tutte le loro insofferenze e le loro ansie e questo è sicuramente un dramma un dramma politico l'affluenza è stata in minimi storici ogni elezione diminuisce sempre ma sempre di più a livello nazionale sui partiti cosa possiamo dire possiamo dire che c'è stato un crollo un crollo il crollo di cinque stelle il crollo della lega un crollo un po aspettato ma allo stesso tempo anche un po inaspettato perché comunque i due leader salvini e conte si sono sempre presentati come la chiave di risoluzione di tutti i problemi comunque hanno investito molto sulla loro campagna elettorale un'altra cosa che possiamo notare la vittoria tra virgolette di cinque c'è del partito democratico e di fratelli d'italia fratelli d'italia che cresce in maniera esponenziale il partito democratico che si afferma nelle grandi città con delle vittorie soprattutto schiaccianti come è successo per esempio a bologna e milano e diciamo si propone un po come il vero partito di questo governo partito che tiene in piedi questo governo a cui si fa questo governo invece possiamo fare un'altra analisi sulle sulle coalizioni la coalizione di centrodestra è sembrata un po confusa incasinata la coalizione centrosinistra lì dove si è riuscito a raggiungere determinati accordi perché come abbiamo visto a roma e torino l'accordo tra cinque stelle partito democratico non è stato raggiunto e infatti in tutte e due le città abbiamo dei balottaggi invece lì dove il accordo è stato raggiunto abbiamo visto un centrosinistra forte solido che può far paura al centrodestra centrodestra che è stato abituato in questi ultimi anni a dei sondaggi veramente incredibili come abbiamo visto lega fratelli italia due partiti più forti e che invece comunque nella loro campagna elettorale qualcosa hanno sbagliato e c'è stata anche tra virgolette una autocritica da parte del leader della lega salvini e di berlusconi che hanno detto appunto che i candidati sono stati scelti troppo tardi e che non hanno rappresentato in maniera eccezionale la loro città in cui erano candidati ecco l'ultima cosa che si può dire ancora è che siamo di nuovo di fronte a un bipolarismo il polarismo tipico dell'epoca berlusconiana e prodiana quindi sempre di più l'italia è spaccata in due tra sinistra centrosinistra e centrodestra e per questo urge prima possibile una nuova riforma elettorale perché si rischia veramente di andare ogni volta al voto di avere un paese sempre più ingovernabile quindi ormai sinistra e destra si contrappongono sempre di più come sta succedendo un po in tutto il mondo come abbiamo visto anche nelle ultime elezioni in germania dove però appunto l'alta ingovernabilità dovuta alla legge elettorale crea problematiche soprattutto per la borsa soprattutto per la tenuta dei governi l'ultima cosa che possiamo dire è che c'è una parte centrista formata da renzi e calenda da italia viva ed azione rispettivamente che detterà appunto i cardini del gioco come è successo nelle ultime negli ultimi governi come potuto vedere con renzi che ha sfiduciato conte grazie dell'attenzione spero vi sia piaciuta la mia analisi di queste elezioni e ci vediamo la prossima puntata di rock politic per la prossima puntata di rock Grazie a tutti.